Un uomo di 91 anni è morto questa mattina investito da un treno mentre attraversava i binari al passaggio a livello di via Contemossa a Santo Spirito a nord di Bari. La vittima, secondo le prime informazioni, residente nel quartiere Catino, avrebbe attraversato nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero abbassate. Dunque è stato travolto da un convoglio regionale che passava in quel momento e che viaggiava in direzione Bari città sbattendo violentemente la testa su uno dei vagoni. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polfero, oltre al personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale. Le indagini sono coordinate dalla PM di turno della procura di Bari Chiara Giordana. La circolazione ferroviaria nella tratta tra Bari Centrale e Barletta è stata sospesa per poco più di un'ora per poi riprendere regolarmente con ritardi fino a 60 minuti. La circolazione ferroviaria nella tratta tra Bari Centrale e Barletta è stata sospesa per i rilievi gli agenti della polizia locale. La circolazione ferroviaria nella polizia locale. La circolazione ferroviaria nella polizia locale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.